Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La Reggiana non è che la scopro io, la scopro è una squadra che è costruita per andare in B, ma l'avevo detto anche alla vigilia di questa partita. Però se analizziamo bene, il primo tempo non è che abbiamo fatto grandi tiri pericolosi, è vero che noi abbiamo giocato con le armi che in questo momento possiamo mettere in campo, la nostra voglia, il nostro cuore, diciamo così, fermano e abbiamo fatto abbastanza bene, secondo me. Il peccato, quello che mi rammarica proprio tanto, è il fatto che abbiamo preso due gol che potevamo magari evitare, anche perché ci abbiamo lavorato e sapevamo che loro avevano fatto 28 gol su calci piazzato. Quindi ci abbiamo lavorato, sì, però l'abbiamo preso in un momento, magari finiva 3-0, però se evitavi quel gol, magari negli ultimi minuti dove magari abbiamo spinto, ci abbiamo avuto due o tre occasioni con Paniteri e via dicendo, una con la girata di Marchi, abbiamo fatto gol, affargato l'aura, allora non è facile. Adesso dobbiamo intanto vedere domani di raccimolare le forze, che siamo usciti, come avete visto, qualcuno con i grampi, qualcuno stremato, qualcuno entro spedioio e adesso in questo momento è abbattuto, però c'è la consapevolezza di aver dato tutto per la maglia, per la gente che è venuta e poi dopo la qualità in questa categoria qua fa la differenza.